Il tipico Brontesi è un'associazione che si trova qui alla Sagra del Pistacchio 2020, di che cosa vi occupate? Principalmente abbiamo a cura la salvaguardia del territorio, infatti organizzando anche delle giornate magari come il progetto che stiamo gestendo adesso che è Amambiente. Cerchiamo di tenere pulito tutto il nostro territorio e comunque di farlo conoscere ai Brontesi stessi. Magari delle piccole attività per invogliare tutti i Brontesi a avvicinarsi e unirsi per ampliarsi. L'ultimo progetto di cui parlavamo prima è quello di reinventare un mondo nuovo, avere un ambiente molto più pulito e a questo proposito stiamo appunto piantando degli alberi in una zona che ormai è quasi distrutta, quasi disboscata per cercare di avere un po' più di verde anche nel nostro territorio. Le persone che incontrate durante la Sagra, come rispondono a queste vostre iniziative? Principalmente alcuni sembrano interessati, però se non riusciamo a catturare subito la loro attenzione vanno via pensando sia una cosa un po' inutile. Però ci sono state delle persone veramente interessate che hanno fatto delle donazioni che proprio volevano partecipare a questo progetto con tanto fervore. Sono rimaste ad ascoltarci, hanno preso i nostri contatti e hanno fatto un po' di pubblicità e hanno fatto girare insomma il progetto. Cosa vi auguratevi? Speriamo che tutto vada per il meglio, che si possa fare sempre di più, sempre in meglio e si possa arrivare ad avere finalmente un territorio con tanto verde, tanti quanti siamo noi. Avere sempre più persone con noi all'interno della nostra associazione ma anche oltre ai momenti di comunità creare qualcosa di utile per le generazioni future.